Come mai la tosse per la tiroide, si chiama tosse anche quella tiroidea, ho scoperto, no? È chiamata tosse comunque. Per la tiroide va assunta circa un'ora prima di colazione? Me l'ha detto l'endocrinologa, ma mi sono sempre scordata di chiedere perché. Allora sì, forse è anche un po' pessimista come tempistica quella che viene qui definita. Un'ora è tanto, è tanto, tanto da essere incompatibile spesso col fare una colazione in casa, con tutto quello che facciamo. Allora, il motivo per cui si chiede di aspettare un certo intervallo temporale prima di fare colazione è che la levotiroxina, il principio attivo della terapia ormonale sostitutiva della tiroide, ha un assorbimento abbastanza delicato a livello intestinale che può risentire dell'interferenza con quello che noi consumiamo a colazione. Quindi sostanzialmente se io prendo la levotiroxina e ci bevo subito dopo, per esempio, un banale caffè, la quantità di levotiroxina nella compressa, nella fialetta o nella pillola che prendo è X e io ne sto assorbendo una parte di X. Quindi fare colazione subito dopo, contestualmente all'assunzione, rende conto di un assorbimento erratico. Io generalmente non consiglio ai pazienti di attendere addirittura un'ora, diciamo questo tempo può andare dai 15 ai 30 minuti, vediamo di trovare un accordo su una tempistia che sia più congrua, insomma.